Sarò presuntuoso, però in 2017 abbiamo gestito la partita come ci pareva il piacere e sono molto arrabbiato per questo, perché due mesi fa io non parlo di voi, parlo di chi ci sta intorno, ci davano che neanche abbiamo giocato quel lavoro a un buon livello, che saremmo arrivati settimi e non darmi una fatica. E invece ci siamo giocati in una partita, la pari con Conegliano, che ha dei problemi. Però penso che abbiamo fatto un grande lavoro da tutti i punti di vista e sono arrabbiato. Mi dispiace, perché se tu porti il primo set a casa giustamente, il secondo stai un po' indietro, poi avanti giustamente, e alla fine fai tre pallonenti e ne fai cadere uno di Conegliano, allora non va bene. Prova rischi e magari non vinci. Ma secondo me se ci siamo rischiati, non lo vinci. Ve lo dico sincero. Va bene, intenzialmente stai avanti, ti recupera, va avanti rigidamente, sono cadute tre palle con nessuno che ha fatto a prendere. Brava Conegliano, ha caduto ciò. Però scusate, nel senso, noi ci abbiamo messo veramente del nostro. Bastava una mano sulla palla dei 15-22 di luttore anni, e se andiamo a 15-22 noi non possiamo andare avanti e vediamo come succede. Quindi sono rimasto alla mia. Infatti il 4-7 è poco mia, perché mi sono arrabbiassantissima la squadra, non si può. Siamo qua, non c'è niente da perdere. Noi niente da perdere, niente davvero. Non facciamo nemmeno paura. Piuttosto sbagliamo. Piuttosto sbagliamo. Perché secondo me da un punto di vista tecnico-tattico avevamo incarrato la panchita pubblica. mi sarebbe piacere a noi. Bene la battuta. Benissimo, non mi difesa, veramente bene. Sappiamo che non andiamo fuori che abbiamo sopportato qualche murata, qualche cosa, però mi ha difeso tantissimo. Parlo dei 15-27, se state lì, non dico, non sono del produttore per pensare di poter vincere 3-0, però, cavolo, potete dare una mano a noi.